Nel calcio tra fratelli capita di ritrovarsi a vestire due maglie diverse, oppure di difendere gli stessi colori. A volte si è entrambi fenomeni, altre volte buoni giocatori, altre ancora è solo uno dei due a brillare. Nella storia dell'Avellino è capitato spesso che ci fossero due consanguigni. Nelle scorse ore ha raggiunto l'intesa con il club irpino Martin Wilmot, fratello di Reno, il trequartista classe 99 in scadenza con lo standard di EGB ha incontrato la dirigenza bianco-verde e raggiunto l'intesa per un triennale. Prima dei figli di Marc, indiscussa stella del Belgio con cui ha preso parte a ben quattro mondiali da calciatore, era toccato a Carlo e Stefano Trevisanelli indossare la maglia dell'Avellino nel campionato 76-77, ma anche ai gemelli Marco e Mario Piga, i due sardi hanno giocato all'ombra del partenio dal 77 al 79 insieme. Poi le loro strade si separarono con Mario che restò in Irpigna fino all'82, 128 presenze e 12 gol all'attivo ed il fratello Marco che si trasferì al Catania. Nel campionato 79-80 in massima serie era stata la volta di Stefano e Claudio Pellegrini, 12 presenze e 3 gol per il primo, 28 gettoni e 4 reti per il secondo. In epoca recente era toccata Gianfranco e Antonio Creniti, il primo però è stato grande protagonista solo nelle giovanili, vincendo un campionato Beretti, così come è accaduto per Davide e Felice Vago. Tornando ai Wilmots, l'auspicio è che l'altra stellina belga possa fare bene, l'Avellino ci crede.